Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci addentriamo nel tema della panificazione, un tema che mi è molto caro, poiché appunto io sono figlio di una famiglia di panettieri e il pane è il mondo in cui, da un punto di vista dei cibi fermentati, io sono cresciuto. Fin da piccolo sono cresciuto nel forno di mio padre, in mezzo alla farina, in mezzo all'aroma del pane, alle focacce, ai taralli e ai biscotti, tutti i prodotti che si producevano nel forno dei miei genitori. E quindi ogni volta che parlo di lievito e di pane, mi ritorna sempre alla mente l'aroma di quel pane che io sentivo quando ero piccolo. Un tema che mi è molto caro in ambito di panificazione è il tema del lievito. Ovviamente, come si può immaginare, ci sono tanti tipi di lieviti in commercio e molto spesso, devo dire, la confusione tra i vari tipi di lieviti regna praticamente sovrana. Non solo, ma molto spesso sento dei veri e propri pregiudizi verso alcuni tipi di lieviti, non faccio nomi, come se questi preparati fossero negletti, come se avessero qualcosa di sbagliato in fondo e quindi tutti quasi ci affrettiamo sempre a precisare che usiamo la nostra pasta madre, magari vecchia di cent'anni fa, ecco, piuttosto che dire di utilizzare il famigerato lievito di birra. Ebbene, io sono di un parere leggermente diverso sotto questo punto di vista. Ovviamente apprezzo tantissimo la pasta madre, ma apprezzo anche il lievito di birra e apprezzerò anche il lievito chimico. E ho pensato a questo video proprio per voi, perché voglio farvi capire esattamente qual è la differenza esistente tra la pasta madre e il lievito di birra in primis e poi un altro lievito, il lievito chimico, che ha questa parola qui, chimico, che spaventa molte persone, ma che in realtà, andremo a vedere, ha un significato molto preciso e anche per certi aspetti assolutamente innocuo. Quindi partiamo con il mondo del lievito, della pasta madre e del lievito chimico, ma prima mi presento. Ciao, mi chiamo Marco Fortunato e mi occupo da tanti anni di cibi fermentati. Produco molti alimenti fermentati, come verdure fermentate, bevande fermentate come kefir, kombucha, ma non solo, anche idromele, sidro, soda e bevande fermentate delle più disparate. Mi piace giocare con gli alimenti fermentati e mi sono anche cimentato nella produzione di miso, di salse di soia, di garum, eccetera, eccetera. Nei miei corsi insegno tutto questo e molto altro, corsi che puoi trovare direttamente sul mio sito www.iminfermentation.it. Lì potrai trovare i corsi dal vivo che tengo in giro per l'Italia, magari prossimamente sarò proprio vicino al posto in cui vivi, oppure puoi trovare le formazioni online, i webinar che avvengono solitamente su Facebook o qui su YouTube. Un'altra cosa che puoi trovare sono le formazioni personalizzate. Puoi venire direttamente qui a casa mia a fare una formazione personalizzata completamente dedicata ai tuoi bisogni, oppure posso venire io nel tuo laboratorio, o posso venire nella tua azienda, o posso venire nel tuo ristorante a fare una formazione dedicata ai cibi fermentati. Posso fare questo e posso assisterti nel percorso che ti porterà a produrre i tuoi alimenti fermentati, alimenti che potrai utilizzare per te stesso, ma che anche potrai mettere a disposizione dei tuoi clienti. Tutte le informazioni, anche solo per una domanda, puoi andare sul mio sito www.iminfermentation.it. Ti aspetto e intanto adesso passiamo all'argomento di oggi. I lieviti e le loro differenze. Immagino che tutti avrete sentito parlare di pasta madre, di lievito di birra e anche di lievito chimico. Questi sono tre ingredienti fondamentali per la preparazione di molti prodotti da forno, dal pane alle torte, ma spesso creano confusione proprio in chi si avvicina per la prima volta al mondo della panificazione. La pasta madre è un impasto vivo e naturale ottenuto dalla fermentazione di acqua e farina, che viene mantenuto in vita grazie all'alimentazione regolare con nuova farina e nuova acqua. L'utilizzo della pasta madre garantisce un'ottima lievitazione e una maggiore durata del prodotto finito. Vedremo tutto in questo video. Ma richiede anche tempo ed attenzione nella gestione dell'impasto. Per tutte quelle persone che non hanno così tanto tempo e così tanta voglia di gestire la pasta madre, esiste il lievito di birra, che è invece un lievito selezionato, una coltura, come si dice, prodotta industrialmente e poi venduta a piccoli cubetti, classici cubetti, che si trovano in tutti i supermercati. Viene anche venduto in polvere o liofilizzato e non è, attenzione, da confondere con il lievito alimentare. Il lievito in scaglie, utilizzato invece per fini alimentari e che è disattivato. È un lievito che è stato trattato termicamente e che non ha potere lievitante. Il lievito di birra è un lievito molto potente e garantisce una lievitazione veloce e costante degli impasti, ma ovviamente può influire questo anche sul gusto e sulla conservazione del prodotto finito. Anche qua vedremo tra poco. L'ultima chance per chi non vuole utilizzare neanche il lievito di birra è il lievito chimico. Ma che cosa è esattamente il lievito chimico e perché ha questo nome che per molti potrebbe sembrare inquietante? Tranquilli, non è nulla di pericoloso, nulla che nuoce a nostra salute. Purtroppo nella logica comune il termine chimico viene sempre più associato a qualcosa di dannoso, qualcosa di falso, qualcosa di contraffatto. Invece bisogna imparare a convivere con questo termine perché la chimica è davvero dappertutto. La chimica compone tutto del nostro mondo e chimico non significa necessariamente che qualcosa sia sbagliato o non sia naturale. anzi, la chimica è proprio la base della natura. Ed il lievito chimico è un qualcosa di assolutamente naturale. In particolare, quando parliamo di lievito chimico dobbiamo parlare di agente lievitante che di spesso è fatto a base o di bicarbonato o di acido tartarico o anche chiamato cremor tartaro che sostanzialmente, grazie ad una reazione puramente chimica, produce molta anidride carbonica. Questa anidride carbonica esattamente come avviene nella fermentazione del lievito di birra o della pasta madre viene intrappolata dalla maglia glutinica dei nostri dolci, viene usato soprattutto in pasticceria e appunto ha l'effetto di far lievitare i nostri dolci in maniera molto efficace. Questo tipo di lievito ha degli utilizzi particolari che vediamo anche questi in questo video. Ma quali sono quindi esattamente le differenze? Come fare a capire quando scegliere il lievito giusto in base alla ricetta o alle proprie esigenze? Bene, in questo video cercheremo proprio di rispondere a queste e ad altre domande. Ovviamente anche a tutte le domande che mi porrete sotto qui. Quindi mi raccomando, se avete esperienza con questi lieviti, scrivetemi pure tutto quello che volete. Come sapete, io rispondo sempre. Fatemi sapere se utilizzate la pasta madre, se utilizzate il lievito di birra, se avete dei pregiudizi contro il lievito chimico, ditemi tutto e vi risponderò qui sotto. Iniziamo quindi questo viaggio partendo dal lievito più semplice di tutti, dal lievito di birra, quello anche più conosciuto, quello che si trova più facilmente in commercio. Cosa è esattamente il lievito di birra? Come ho già detto, la sua caratteristica principale è quella di agire molto in fretta e per fare questo il lievito di birra va a lavorare direttamente sugli amidi della farina producendo bassissima acidità il che si tramita in un vantaggio da un punto di vista del sapore creando prodotti molto uniformi. Ma che cos'è esattamente il lievito di birra? Cosa c'è in questo quadrettino che noi compriamo al supermercato? Beh, è molto semplice. In realtà parliamo di una coltura microbica. Questo è il nome, diciamo, tra virgolette scientifico che dovrebbe avere. Che cosa significa coltura microbica? Significa che in quel cubetto che stiamo acquistando ci sono miliardi e miliardi e miliardi di cellule di un microorganismo specifico che è un fungo unicellulare chiamato Saccharomyceto cerevise. Allora, non si può sapere con esattezza ma le stime più attendibili dicono che in un cubetto di lievito di birra ci sono circa 600 miliardi di cellule di Saccharomyceto cerevise. Quindi pensate un po' che potenza che possiamo trovare in un piccolo cubetto di lievito. Ma un numero talmente assurdo che è anche proprio difficile da immaginare. Pensate che questo numero è sei volte superiore al numero di stelle ipotetico che si trovano nella Via Lattea che è la galassia nella quale si trova il sistema solare. Cioè, è pazzesco. quindi ritorniamo quindi al nostro microorganismo. Il Saccharomyceto cerevise è un fungo unicellulare e in un cubetto ne troviamo appunto 600 miliardi di queste cellule, di questi funghi che fanno tutti lo stesso identico lavoro. Cioè, loro metabolizzano l'amido della farina e lo trasformano in zuccheri, lo trasformano in piccole porzioni di acidi e anche lo trasformano in tanta nitride carbonica e alcol etilico. Tanto alcol etilico che la loro fermentazione, il metabolismo di questi microorganismi e Saccharomyceti è definito come metabolismo alcolico oppure fermentazione alcolica. Quindi, pensate un po', quando noi facciamo il pane con il lievito di birra stiamo adoperando una fermentazione alcolica. L'avreste mai detto? Grazie a questa grande capacità del lievito di birra dovuta anche ai suoi grandi numeri di operare una fermentazione così importante il lievito appunto come dicevo prima è in grado di darci un prodotto standardizzato con delle caratteristiche sempre abbastanza simili. Tanto simili che noi ci aspettiamo letteralmente dalla fermentazione del lievito di birra alcune caratteristiche e questo lievito è proprio da utilizzare quando noi non vogliamo che il carattere del lievito come per esempio accade con la pasta madre prenda troppo il sopravvento sulla qualità dell'impasto può sembrare una cosa strana però questo è molto importante per esempio pensiamo ad un impasto a lunga fermentazione come un panettone come un pandoro un impasto che non ha bisogno che le caratteristiche della pasta madre entrino a far parte della caratteristica aromatica dell'impasto quindi in quel caso è bene utilizzare una parte di lievito di birra per avviare la fermentazione tra l'altro vi faccio notare una piccolissima cosa in questi casi molte persone si freggiano del fatto di dire per fare il mio impasto ho utilizzato un solo grammo di lievito di birra bravissimo bravissimo ho usato un solo grammo peccato che durante la fermentazione di quell'impasto che ovviamente dovrà durare tante ore quel grammo di lievito di birra diventeranno tantissime miliardi e miliardi di cellule forse più di quelle che trovi in un cubetto originario quindi anche se utilizziamo un solo grammo di lievito questo non significa che poi nel tempo con quel lievito non si riprodurrà all'interno dell'impasto ed è proprio la riproduzione di questo lievito anche di un solo grammo all'interno dell'impasto che ci andrà a dare la lievitazione dell'impasto stesso come abbiamo detto quindi il lievito il saccharomyceto cerevisiae opera direttamente sull'amido della farina la farina di solito è composta di amido è composta di fibre è composta di una piccola frazione di grassi ed è composta di una importante frazione di proteine tra cui anche il glutine ecco il lievito opera solo o quasi esclusivamente sull'amido andando a scindere questa molecola nei suoi zuccheri più semplici glucosio fruttosio maltosio eccetera eccetera e la sua attività quindi sarà limitata a metabolizzare solo appunto l'amido producendo come abbiamo detto molta anidride carbonica alcol e acidi vari l'anidride carbonica sarà imprigionata dalla maglia glutinica facendo lievitare l'impasto anche l'alcol il resto durante la cottura sarà degradato rimarranno una piccola frazione di acidi all'interno dell'impasto ma tutto avrà una scarsissima importanza alla fine avremo un pane senza un'impronta di lievito e questo è molto importante soprattutto ecco questo se utilizziamo il lievito in maniera parsimoniosa ecco senza esagerare perché in molti casi in effetti per fare troppo in fretta perché non si ha tempo si tende ad utilizzare 20 grammi di lievito in un impasto e questo si poi nel tempo si può tranquillamente sentire quindi utilizziamo il lievito per fare degli impasti specifici per fare per avere una lievitazione molto standardizzata e in certi casi lo utilizziamo un po' a cacchio diciamo quando non abbiamo tempo quando non c'è tempo di aspettare la fermentazione e per accelerare il tutto ma come viene prodotto esattamente il lievito di birra beh è un processo praticamente industriale è un procedimento abbastanza complesso che richiede una serie di passaggi ben precisi in generale il processo di creazione del lievito di birra si divide in tre grandi fasi principali cioè la fase della coltivazione la fase della fermentazione e la fase della raccolta la prima fase del processo di creazione del lievito di birra è la coltivazione come abbiamo detto in questa fase i coltivatori sostanzialmente che sono le persone che lavorano negli stabilimenti di produzione del lievito utilizzano un substrato generalmente costituito da un mix di cereali acqua e zucchero per appunto coltivare i lieviti questo substrato viene inoculato con una piccola quantità di lievito di birra quindi selezionato che inizia appunto a moltiplicarsi esattamente come il grammo di lievito per fare la famosa pizza quindi questi lieviti iniziano a consumare gli zuccheri producendo anidride carbonica e alcol la fase successiva è la fermentazione durante questa fase i lieviti coltivati vengono trasferiti in un ambiente controllato un bioreattore si chiama costruito appunto da un serbatoio in cui viene aggiunto un nuovo substrato in questo ambiente i lieviti continuano a moltiplicarsi e a fermentare quindi il substrato producendo grandi quantità di anidride carbonica e anche alcol infine nella terza fase abbiamo la raccolta durante la fase di raccolta i lieviti che hanno fermentato vengono separati dal substrato solitamente attraverso un processo di filtrazione e infine poi vengono asciugati essiccati compressati in base al tipo di prodotto che si vuole vendere quindi confezionati in maniera adeguata in sacchetti barattoli eccetera e poi mandati alla vendita ed ora passiamo invece alla pasta madre vediamo che cosa è la pasta madre come è fatta qual è la differenza tra pasta madre e il lievito di birri in cosa si differenziano esattamente intanto partiamo da un presupposto di base se il lievito è una coltura di cellule di saccharomyceto cerevise ok la pasta madre è invece una coltura simbiotica che cosa significa esattamente significa che all'interno della pasta madre noi troviamo in simbiosi decine e decine di tipologie diverse di microorganismi non solo quindi il saccharomyceto cerevise che troviamo nel lievito di birra ma troviamo altri tipi di lieviti per esempio appartenenti alla famiglia della candida oppure appartenenti ad altre tipologie di saccharomyceti mentre possiamo anche trovare lattobacilli o acetobacter batteri acetici questi microorganismi insieme generano quella che è la cultura appunto simbiotica simbiotica perché dal rapporto esistente tra queste famiglie differenti di microorganismi nasce un qualcosa di nuovo che è appunto la pasta madre che ha un compito specifico quello appunto di far lievitare o meglio fermentare il pane quindi per riassumere se nel lievito di birra io trovo una cultura di quasi o di più di 600 miliardi di cellule di saccharomyceto cervise nella pasta madre invece oltre alle cellule del saccharomyceto cervise io troverò altri microorganismi altre cellule di altri lieviti lattobacilli di diverso genere e di acetobacter in particolare i lattobacilli e gli acetobacter sono in realtà proprio prevalenti all'interno della pasta madre e in certi casi a volte in qualche caso in analisi fatte il saccharomyceto che è poi il microorganismo che costituisce il lievito di birra neanche è stato trovato all'interno di una pasta madre e questo perché appunto i microorganismi che compongono la pasta madre sono arrivano direttamente dall'ambiente naturale quindi dalla farina e dall'acqua utilizzati per fare la pasta madre e non sono coltivati in laboratorio come avviene per esempio per i saccharomyceti quindi quando di solito troviamo all'interno di una pasta madre un saccharomyceta potrebbe anche essere che questo sia entrato all'interno della pasta madre direttamente da una tra virgolette contaminazione ambientale dal lievito di birra è più naturale trovare all'interno della pasta madre microorganismi del genere lactobacillus e del genere acetobacter ma anche diciamo microorganismi del genere dei lieviti di varietà differenti da quelli dei saccharomyceti potete potete quindi capire da questo racconto che il lavoro della pasta madre è molto diverso da quello del lievito di birra se il lievito di birra andrà a lavorare in maniera selettiva sugli amidi il lavoro della pasta madre sarà un lavoro a 360 gradi perché noi abbiamo diversi microorganismi che andranno ad intaccare diverse frazioni diverse parti contenute nella farina il lavoro sarà molto più importante e anche la produzione di acidi sarà molto più elevata questo lavoro incrociato da parte di lieviti batteri e batteri acetici andrà a elaborare appunto maggiormente la farina di artenza rendendola appunto già solo per questo molto più digeribile la digeribilità di un pane fatto con la pasta madre è anche dovuta alla quantità di acidi contenuti l'acido lattico e l'acido acetico contenuto nella pasta madre e anche contenuto nel pane prodotto con la pasta madre sono degli acidi che rendono di per sé molto più digeribili gli alimenti e tra l'altro garantiscono una maggiore conservabilità del pane proprio perché appunto l'acido lattico e l'acido acetico favoriscono una migliore conservazione dell'impasto motivo per cui appunto il pane fatto con la pasta madre avrà una durata molto più lunga di un pane fatto con il lievito di birra che sarà quasi privo di acido lattico e di acido acetico quindi se nella produzione di un impasto con il lievito di birra io sto utilizzando la fermentazione alcolica nella produzione dell'impasto con la pasta madre io starò utilizzando un po' la fermentazione alcolica un bel po' la fermentazione invece lattica dovuta ai batteri lattici presenti nella pasta madre e anche una parte di ossidazione acetica dovuta appunto alla trasformazione dell'alcol prodotto da alcuni lieviti in acido acetico vedete quanto è più complessa la fermentazione della pasta madre rispetto a quella del lievito e questa complessità ovviamente si lega anche alla gestione stessa della pasta madre la pasta madre va gestita va letteralmente coltivata rinnovata nel tempo cosa che non dobbiamo assolutamente fare con il lievito di birra perché lo possiamo tranquillamente comprare in un supermercato quindi ora che abbiamo visto più o meno diciamo quali sono le differenze tra il lievito di birra e la pasta madre e anche i risultati che abbiamo all'interno di un impasto con il lievito di birra e con la pasta madre vediamo un po' invece come si produce la pasta madre come si fa perché a differenza del lievito di birra invece la pasta madre può essere tranquillamente prodotta direttamente a casa anche se diciamo in generale ormai la si trova anche in vendita secca un po' dappertutto di per sé creare la pasta madre è un processo in effetti abbastanza semplice ma richiede anche un po' di tempo e di pazienza in pratica si mescola farina e acqua in parti uguali e si lascia l'impasto a temperatura ambiente per alcuni giorni durante questo periodo i batteri lattici i lieviti e i batteri acetici presenti nell'aria nella farina e nell'acqua colonizzano l'impasto crescono e lo fanno letteralmente fermentare è importante utilizzare acqua e farina ovviamente di qualità possibilmente biologiche in quanto la qualità degli ingredienti influirà direttamente sulla qualità diretta della pasta madre durante i primi giorni di fermentazione l'impasto può emettere un odore leggermente sgradevole e acido questo è assolutamente normale anzi indica proprio che la pasta madre sta maturando sta crescendo correttamente è molto importante durante questo tempo alimentare la pasta madre ogni giorno aggiungendo una piccola quantità di farina e acqua pari a quella presente nell'impasto in questo modo si aiutano i batteri lattici e i lieviti a crescere e a svilupparsi meglio avendo a disposizione sempre diciamo dell'altro nutrimento questo garantirà alla pasta madre di essere sempre attiva e di arrivare pronta per la panificazione in un tempo più veloce la pasta madre può essere conservata in frigo ma è importante ricordarsi di alimentarla regolarmente anche in questo caso per evitare che diventi appunto inattiva o muoia anche perché in caso di mancata alimentazione è facile che qualche cultura microbica presente all'interno della pasta madre che siano lieviti o che siano batteri acetici possano prendere il sopravvento trasformando la qualità della nostra pasta madre una volta che abbiamo ottenuto la nostra pasta madre è possibile poi utilizzarla per far lievitare gli impasti come il pane le nostre torte i prodotti da forno la quantità di pasta madre da utilizzare dipende dalla ricetta di solito si può utilizzare un 20-30% della quantità totale di farina ma in certi casi si può usare anche un 10% dipende anche dal tono dal sapore che noi vogliamo dare della pasta madre originaria al nostro pane arriviamo ora al lievito chimico questo lievito che ha questo nome così inquietante che spaventa chimico ok vediamo che cos'è esattamente questo lievito chimico e perché non dobbiamo assolutamente aver paura di questo tipo di lievito sebbene quindi possieda un nome comunemente rimanda al grande immaginario della chimica come qualcosa di sintetico e di artificiale il lievito chimico noto anche come polvere lievitante o cremo tartaro è invece un ingrediente assolutamente come abbiamo già detto naturale comune in moltissime ricette soprattutto di pasticceria ma utilizzato anche in panificazione è definito come anche agente lievitante utilizza una combinazione di bicarbonato di sodio e un acido per produrre appunto anidride carbonica che è poi responsabile del gonfiore dell'impasto il lievito chimico intanto è completamente diverso dal lievito di birra e dalla pasta madre in quanto non utilizza dei batteri vivi per lievitare l'impasto si basa invece sulla reazione chimica tra l'acido e il bicarbonato di sodio per produrre appunto anidride carbonica in maniera praticamente immediata il lievito chimico è stato inventato nel 1843 da un panettiere inglese di nome Alfred Bird che cercava sostanzialmente una soluzione per creare pane più veloce e più rapida questo Alfred Bird oltre ad essere in realtà un panettiere era un chimico e quindi ha creato questo lievito appunto per i motivi che abbiamo detto ma è stato solo nel 1891 che la produzione industriale del lievito chimico è partita una delle caratteristiche principali del lievito chimico è la sua capacità appunto di attivarsi istantaneamente cioè appena mescolato con l'impasto soprattutto appena mescolato con l'acqua in genere l'impasto contenente il lievito chimico deve essere cotto immediatamente in quanto la reazione chimica che produce l'anidride carbonica inizia immediatamente appunto proprio perché questa reazione avviene viene scatenata dalla presenza di acqua e può anche esaurirsi rapidamente quindi bisogna fare l'impasto e cuocerlo subito motivo per il quale si utilizza tantissimo il lievito chimico proprio per le torte a differenza del lievito di birra e della pasta madre nonostante la sua grande praticità il lievito chimico però non interferisce non influisce in nessun modo sulla digeribilità della farina e quindi certamente un impasto nel quale si utilizza il lievito chimico sarà meno digeribile di uno che è stato invece fermentato con il lievito di birra ma soprattutto con la pasta madre proprio perché nessun microrganismo ha metabolizzato le macromolecole contenute nella farina produrre il lievito chimico in casa è in realtà abbastanza semplice anche se è un prodotto industriale che viene prodotto appunto in grandi quantità in grandi industrie lo si può tranquillamente fare in casa con un procedimento relativamente semplice per creare il lievito chimico infatti è necessario combinare insieme bicarbonato di sodio e un acido come ad esempio l'acido tartarico o l'acido citrico che si vendono anche in polvere quindi per evitare la formazione di grumi è possibile aggiungere anche un po' di amido o di fecola che rende il tutto molto più maneggiabile quindi si mescolano queste polveri e io poi lo posso insacchettare e conservare già pronto per l'utilizzo in generale una buona proporzione è di una parte di bicarbonato di sodio due parti di acido tartarico o acido citrico e una parte di amido di mais quindi come avete visto non solo si può produrre tranquillamente in casa ma lo si può anche utilizzare facilmente ovviamente nel suo ambito non è certamente un prodotto da utilizzare per fare il pane o per fare il panettone ecco però è un prodotto interessante per specifici ambiti se vi state chiedendo che cosa è l'acido tartarico ecco l'acido tartarico è semplicemente un acido prodotto nel processo di vinificazione quindi anche questo è un acido assolutamente naturale e come vedete gli ingredienti del lievito chimico non sono cose chissà assurde inventate chissà dove sono semplicemente degli acidi e del bicarbonato di sodio che vanno semplicemente mescolati tra loro sapevate tutte queste cose qui scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del lievito chimico della pasta madre del lievito di birra scrivetemi anche qual è il vostro preferito se c'è qualcosa che utilizzate più di un'altra e perché anche grazie per aver visto il video fin qua noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video a presto ciao ciao